il 13 ottobre 2023 uscirà nelle sale l'esorcista il credente seguito diretto del capolavoro di william fritkin del 1973 l'esorcista che già aveva avuto delle continuazioni addirittura tre pensando anche alla genesi solo che nell'era dei requel dei legacy quel come ben sappiamo ormai si porta avanti questa moda di ripartire dalla fine del capitolo originale senza tenere in considerazione tutto ciò che c'è stato dopo così è stato fatto ad esempio con halloween e così verrà fatto con la saga dell'esorcista e c'è un qualcosa in comune fra la nuova trilogia di halloween e questa nuova trilogia che vedremo dell'esorcista il regista david gordon green a mio parere se l'è cavata egregiamente con halloween e con halloween kills mi attendevo grandi cose dal capitolo conclusivo cioè halloween ends e invece sono rimasto totalmente deluso quando ho scoperto che avrebbe fatto la stessa cosa con l'esorcista prendendo un altro capolavoro perché come halloween era un capolavoro ed è tuttora un capolavoro di john carpenter l'esorcista è uno dei più grandi film horror della storia del cinema un capolavoro di william fritkin le prime locandine i primi poster rilasciati qualche giorno fa mi avevano convinto tantissimo adesso invece è uscito il trailer e da amante dell'horror non posso far altro che parlarvene parlarvene visto che questo è uno dei film che più sto attendendo diciamo che sono sulla via di mezzo ci sono dei momenti nel trailer che mi hanno realmente colpito e soddisfatto altri che mi hanno invece fatto dire boh ho paura che questo film da un lato possa essere la classica pellicola copie in colla di mille altre con protagonista il diavolo perché come ben sappiamo esiste l'esorcista ed è un capolavoro ma esistono anche tanti altri film con possessioni demoniache alla base dove il tutto stona se pensiamo uno degli ultimi l'esorcista del papa che è un film terribile ecco in certi momenti mi sembrava più che questo nuovo esorcista il credente volesse andare incontro a quel film copia in colla dove ogni attimo ci sono jumpscare dove ogni attimo bisognerebbe noi spettatori spaventarsi attraverso la paura più effimera del mondo perché se tu mi vuoi solo spaventare con la luce che si spegne e poi la persona davanti la macchina da presa quando si riaccende beh è facilissimo far paura ma questo anche se sono in fila alle poste e uno mi arriva dietro e mi urla in un orecchio mi spavento ma allora dovrei definirla la vera paura il vero terrore si costruisce anche attraverso la messa in scena e questo william fritkin sapeva farlo william fritkin riusciva a spaventarti anche solo grazie ad una sequenza di una scalinata facendoti vedere una scalinata vuota che poi sarebbe stata importantissima nel film la colonna sonora i dialoghi veramente l'esorcista è un film da manuale per capire anche come si faccia paura in questo film o perlomeno nel trailer di questo seguito 50 anni dopo parlando subito degli aspetti negativi mi è sembrato che si volesse invece rincorrere la moda spasmodica di spaventare attraverso meri espedienti che lasciano il tempo che trovano cosa invece mi ha colpito l'ultima parte del trailer mostra delle sequenze in bianco e nero che vanno un po a richiamare anche alcuni momenti del capitolo originale con un fermo immagine una musica che va a riarrangiare il tema classico indelebile iconico dell'esorcista del 73 e diciamo che quei momenti mi hanno fatto provare quel brividino lungo la schiena quindi ci potrebbero essere tutte le carte vincenti per sorprendere il pubblico al contempo però ci sono anche tutti gli ingredienti per deluderlo altamente io voglio augurarmi che non si giochi esclusivamente con la fiera dei jumpscare ma che alla base ci sia un'idea vincente da quel che si capisce vedendo il trailer si vuol raccontare una storia di un padre che non ha più notizie di sua figlia e della sua amichetta che si perdono nel bosco per tre giorni una volta che queste due bambine ragazzine vengono ritrovate scopriamo che da quel bosco abbiano portato con loro una presenza maligna che infesterà i loro corpi nel giro di breve ora la trama potrebbe risultare anche carina vediamo dopo pazuzu quale altro demone potrebbero esplorare però parliamoci chiaro c'è una scena in cui in chiesa nel trailer appare penso l'amica della figlia di questo padre di famiglia che ha degli evidenti segni sul corpo e portando avanti un dialogo composto da frasi sconnesse mette gli occhi al cielo e percepiamo una cga invadente io vi ricordo la meraviglia dell'esorcista del 1973 e della grandiosa anche e massiccia voglia di utilizzare effetti prostetici artigianali se questa volta opteranno esclusivamente per effetti digitali già lì mi cadrebbero le braccia quindi spero di no ovvio quando sentiamo il celebre tema dell'esorcista riarrangiato che arriva pian piano parte si interrompe parte si interrompe poi e poi esplode nell'ultima parte del trailer chi ama l'horror non può che restare un attimo sicuramente anche sorpreso e colpito però non vorrei fosse uno specchietto per le allodole perché rovinare un idea un concetto un diciamo film come l'esorcista con un seguito scialbo piatto e inutile potrebbe essere facilissimo poi non è che se l'esorcista il credente lo trovassimo brutto vorrebbe dire che anche l'esorcista di fritkin dovremmo bocciarlo e ci mancherebbe quello resto un capolavoro ma sicuramente quando poi pensi alla saga noti quel neo che va a stonare su un bel corpo è come quando pensi ad halloween e dici david gordon green ha voluto riprendere in mano la saga già alcuni sono rimasti delusi con il primo e con kills io invece quei due li ho adorati ma quando poi arriva hans dico ma perché ma per quale motivo c'è l'idea della trilogia per di più in questo primo nuovo tassello sul mondo del maligno tornerà anche chris mcnail quindi la madre di reagan vi ricordate nell'esorcista era giovane la madre di reagan della bambina posseduta 50 anni fa vedremo sua madre ritornare è ovviamente anziana ma sarà importante come consulente per aiutare queste due nuove giovani ragazze possedute bello senz'altro rivedere ellen barstyn nel film che riprende il suo iconico ruolo e la mia idea è quella di rivedere sicuramente non in questo magari sul finale basta ma senz'altro nel prossimo linda blair per me la riporteranno cioè jason blum lo sappiamo quanto ami questi prodotti di nostalgia e secondo voi ha riportato ha riportato la madre non riporterà la figlia la nostra reagan cresciuta beh l'abbiamo vista in riposseduta che era un film parodistico figuriamoci se non la potremmo rivedere nell'esorcista il credente in un cameo e in un ruolo più massiccio nel successivo come accadde con yuk skywalker nel settimo capitolo di star wars per poi renderlo protagonista nell'ottavo gli ultimi jedi quindi ecco come avrete capito a me david gordon green non dispiace come regista però questo trailer mi ha lasciato sul chi va là ci sono delle cose riuscite altre proprio no spero possa soddisfarmi sicuramente non riesco ad esaltarmi anche perché alla sceneggiatura troviamo scott timps che ultimamente ha scritto il quinto capitolo di insidious la porta rossa che non sarà stato orribile come il quarto ma comunque un film mediocre è anche vero che scott timps ha realizzato la sceneggiatura di halloween kills che per me è un film incompreso e ferocemente politico oltre che horror però ha scritto anche quella roba abominevole che è fire starter il remake di fenomeni paranormali incontrollabili quindi non lo so quando uscirà qualcosa di nuovo ne parleremo sicuramente i poster sempre in bianco e nero con quel make up che faceva tornare alla mente lo storico indelebile incredibile make up di linda blair degli anni 70 avevo aspettative molto più alte il trailer me le ha un po abbassate ma comunque sarò in sala subito per sostenerlo tra l'altro esce di venerdì 13 quindi cosa volete di più fatemi sapere nella sezione commenti se a voi fosse invece piaciuto di più oppure se foste d'accordo con me così ne parliamo ci confrontiamo e prima di concludere voglio anche ricordarvi che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social per abbonarvi al canale e che se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana che pazugio sia con voi alla prossima parliamone qua sotto che così ci confrontiamo noi amanti degli horror